Abbiamo fatto un ragionamento articolato di come Napoli ce la sta facendo da sola, con i cittadini, con una rivoluzione culturale, con la sua bellezza, con la sua umanità, con la sua energia, con i suoi giovani, la sua autoimprenditorialità e in attesa che il governo si accorga che esiste anche il mezzogiorno e quindi Napoli noi abbiamo mantenuto forte la dignità di questo popolo e andiamo avanti per questa strada, il popolo ormai in cammino. Se oggi Napoli ha una fotografia migliore rispetto a cinque anni fa in merito soprattutto dei napoletani e allora credo che i movimenti popolari saranno il faro della politica del futuro, almeno da Napoli sarà così e credo che potremmo trainare il mezzogiorno perché il mezzogiorno può cambiare non solo la sinistra, ma può cambiare il paese. Da una parte abbiamo il popolo di Bagnoli, soprattutto della decima municipalità, di questi quartieri così pieni di giovani e di energia e di storia che non aspettano le inerzie, le lentezze, le lacune, le responsabilità in questo caso del governo centrale, ma si è lavorati tutti insieme per dimostrare che con pochissimi soldi si può cambiare il destino della nostra città. L'attendiamo ancora da anni e anni e anni che dopo aver inquinato e fatto un disastro ambientale si bonifichi, ecco invece si è pensato di costruire negli anni passati delle strutture prima di bonificare. Questa è l'assurdità e lo sperpero di un erano pubblico, di una classe politica gravemente responsabile. Noi dobbiamo difendere la città, cambiarla, migliorarla e dare un destino migliore ai nostri figli che potranno andare all'estero per scelta e non per necessità. Questa è una fotografia contraddittoria proprio di quest'area, da una parte le responsabilità politiche, le inerzie, le lacune, le nefandezze e dall'altro il popolo che non molla, che vuole restare qua e che dà segnali che sembrano piccoli ma sono molto grandi soprattutto da un punto di vista morale.